Musica Avevano rubato le chiavi della scuola per potervi centrare di notte danneggiando e portando via quanto possibile. Per questo è finita nei guai una banda composta da 12 ragazzi, uno neomaggiorenne e gli altri invece tutti d'età compresa tra gli 11 e 17 anni. Sono stati tutti denunciati infatti dai carabinieri per atti vandalici, danneggiamenti e furto. Nelle mire della baby gang era finito un istituto scolastico del Valdarno dove i ragazzini nel corso dell'estate si erano introdotti in più di un'occasione. La banda aveva portato via le casse audio di un pc poi incendiate con alcuni flaconi di alcol in un seminterrato della scuola. Ma non solo i giovanissimi saranno infatti poi accaniti anche contro banchi e cattedre imbrattandole di colla e di inchiostro. A fermare la banda e i carabinieri di Terra Nuova Bracciolini dopo una serie di indagini. Gli episodi erano stati infatti denunciati e militari dal dirigente scolastico dell'istituto. I ragazzi, quattro dei quali stranieri e cinque non imputabili perché con un'età inferiore ai 14 anni sono stati identificati e denunciati rispettivamente alla procura della Repubblica di Arezzo e quella per i minorenni di Firenze per danneggiamento e furto aggravato in concorso con l'aggravante della continuazione dei reati essendosi introdotti più volte all'interno del plesso scolastico. I carabinieri sono riusciti infine a recuperare e a restituire al dirigente scolastico sia le chiavi del plesso che il materiale sottratto.